Parra, e, ci, figlia, ma, ma soprattutto, viviamo così! Il nostro è stato un lungo lavoro, iniziato un anno fa, in cui abbiamo messo tutto il nostro impegno. Abbiamo parlato, ci siamo confrontati, abbiamo lavorato e seminato. Abbiamo lavorato insieme. Siamo solo dei ragazzi, ma insieme facciamo cose grandi. Abbiamo provato ad immaginare la città che vorremmo. Abbiamo guardato la città com'è, cosa non ci piace, l'inquinamento, la mancanza di cura delle persone, l'indifferenza al bene comune. Ma all'inizio avevamo tante idee, volevamo fare tanti progetti. Sono formati quattro gruppi, aree verdi, cittadella, campo da calcio e una parte del castello dell'istrutturale. Alla maggioranza aveva votato, rinnovare un'area verde. Grazie a una che ha contribuito con noi, ci ha fatto conoscere questo parco, che era maltrattato, ci parcheggiavano, ci facevano di tutto. Era pieno di sporcizie. Noi abbiamo visto che era un posto che si poteva salvare e abbiamo deciso di lavorarci. Abbiamo deciso di fare questo parco per i bambini, che potevano tutta, i tambini, che si divertivano, che conoscevano le amicizie, le persone. E abbiamo fatto anche un posto che è per le persone anziane, dove si poteva riposare e ballare con le altre, come altri di loro. Volevamo dimostrare il nostro impegno agli altri, dimostrare che comunque anche i ragazzi possono fare le cose. All'inizio sembrava un po' difficile fare questa idea, ma poi col tempo abbiamo visto che con il nostro impegno siamo riusciti a dare i frutti e quindi poi alla fine a fare il parco. Abbiamo preso un luogo abbandonato per restituirla alla città a tutti. Per noi urban significa gruppo perché comunque abbiamo creato questo parco senza sapere che abbiamo creato un gruppo, abbiamo fatto amicizia. Per noi urban significa aiutare gli altri nelle cose un po' difficili. Comunque è una cosa bella fare urban e comunque puoi imparare molte cose nuove. Per me urban è un progetto che dà l'opportunità a dei ragazzi giovani come noi di fare qualcosa di grande, perché noi non siamo grandi, però nel nostro piccolo abbiamo fatto una cosa grande, perché comunque non è una cosa facile costruire un parco con le nostre mani, con il nostro sudore e la nostra fatica. Comunque secondo me è una bella opportunità da sfruttare al meglio. Per noi il progetto urban è molto bello per riunirci i nostri amici, per fare una cosa bella per la nostra città e per dare esempio ai più grandi di fare più meglio, così loro si daranno con l'ispirazione e farlo meglio di noi, ci precederanno. Il parco urban è nato con l'idea di un gruppo di giovani che sperava di dare l'esempio dimostrando che dei semplici cittadini con il proprio impegno possono fare qualcosa di grande per la propria città. Chiediamo aiuto alla cittadinanza perché questo parco sia un luogo di divertimento e incontro, dove ognuno si senta a casa propria. Per fare ciò serve rispetto per gli spazi e gli oggetti, ti serve che ognuno che l'abbiamo fatto noi porti il proprio mattone per mantenere questo luogo bello, come merita. Noi abbiamo posto le basi e ci piacerebbe tornare in futuro e scoprire che questo parco sia mantenuto intatto grazie al contributo di tutti. Noi abbiamo posto le basi.